Bella Did nuda con Mertalas nel nuovo Photoshop Non è la prima volta che Bella Did posa con pochissimi indumenti indosso, ma ogni nuovo scatto è sempre unemozione. Nuda per una buona causa. La modella Bella Did sta vivendo un periodo d'oro, in cui qualsiasi cosa faccia costituisce una notizia e un successo senza precedenti. . Come sua sorella Gigi, anche lei ha avviato un sodalizio professionale con il fotografo Mertalas, che recentemente ha immortalato Bella Did in un Photoshop davvero incredibile. . In uno degli scatti postati dalla socialite su Instagram, la figlia di Yolanda Foster appare insieme a Mertalas coperta solo da una t-shirt appoggiata sul suo corpo nudo che, come al solito, rivela la perfezione del suo fisico. . La foto è stata realizzata per uno scopo nobile, ossia per supportare un progetto di beneficenza di terra d'ossonos per giovani che soffrono di malattie croniche. . Una bella iniziativa, che fa acquistare ancora più punti a Bella Did, la modella si conferma ancora una volta una ragazza sensibile che ha a cuore le cause sociali e politiche e mira sempre a sfruttare la sua popolarità per dare voce a chi spesso, purtroppo, non ce l'ha. . Una ragazza che sa da che parte stare. Questa è solo una delle tanti volte che Bella Did si schiera a favore di cause sociali. . . Già qualche tempo fa si è espressa più volte contro le politiche di Donald Trump come il Muslim Ban o il progetto di legge che voleva espellere dagli Stati Uniti i giovani entrati illegalmente nel paese quando erano ancora bambini, ma che ormai sono cittadini americani a tutti gli effetti. . Più volte ha rivendicato le sue origini arabe e si è detta fiera di essere musulmana, in un periodo in cui essere di questa religione spesso costituisce un problema per le persone. . . Non per Bella Did, icona di una nuova generazione di ragazze che per questo sa di avere un compito arduo, essere all'altezza e dare il buon esempio, comportandosi nel modo più giusto e aperto possibile. . Aspiro a essere e fare il meglio che posso. Voglio lavorare duro e impostare un obiettivo alla volta. . Bella Did è una ragazza dedita al lavoro soprattutto perché ha conoscenza del fatto che ciò che si è costruita, seppur in poco tempo, deve essere in grado di mantenerlo. . . Nonostante sia una privilegiata, dato che ha avuto molto successo grazie all'uso intelligente dei social e alla provenienza familiare, è ben consapevole di dover fare di tutto per rimanere a galla in un mondo quello della moda in cui si rischia di scomparire facilmente. . A chi l'accusa di avere la pappa pronta, sa già a cosa rispondere, tutto quello che ho, è perché me lo sono guadagnato. . Ci tiene a precisarlo Bella Did, e per dimostrare che non tutto nella vita le è stato regalato, si impegna anima e corpo per fare tutto quello che le viene richiesto. . Ognuno ha un'opinione diversa di quello che vuol dire duro lavoro. Alla fine della giornata, se sei esausto, vuol dire che hai lavorato duro. E io sono stanca la maggior parte delle volte, ha detto. E non potrebbe esserci risposta migliore. .